201 anni l'arma festeggia l'anniversario della sua fondazione. Questa mattina gli schieramenti indivise e un picchetto d'onore hanno accolto nella caserma di via Roma autorità civili e religiose. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, il colonnello Francesco Merone, che dopo un sentito discorso ha tracciato un breve bilancio dell'attività dell'arma dell'anno in corso. È una festa importante e anche emozionante per la prima volta da Irpino, comandante della propria provincia. Sono 201 anni, siamo vecchi ma giovani, giovani proiettati al futuro e investiamo proprio sui giovani per il futuro. Anche il prefetto ha sottolineato l'esigenza di stare sempre in allerta sui problemi di una città che è stata definita tra le più sicure d'Italia. Con i carabinieri e con le altre forze dell'ordine ci stiamo impegnando per mantenere e migliorare questi riferimenti, anche se gli attacchi alla sicurezza sono molteplici. E l'operazione di ieri ne è un esempio. Cerimonia sobria ma non certo priva di valori anche a Benevento, il colonnello Pasquale Vasatura ha fatto gli onori di casa e con gli ufficiali, sotto ufficiali e carabinieri in servizio nel Sannio ha accolto le tante autorità che anche per questa edizione hanno voluto partecipare ad un compleanno speciale. L'operato dell'arma spiegato il numero uno del comando provinciale ha una sola stella polare, garantire e proteggere il cittadino dai soprussi e dalla sopraffazione. Un compito non semplice ma che l'arma svolge grazie alla capillare distribuzione delle stazioni dei carabinieri sul territorio provinciale.